Io penso che determinate situazioni debbono rimanere nell'ambito dello spogliatoio. Io mi auguro che non sia un calciatore, perché dovesse essere un calciatore è una cosa gravissima, perché un allenatore secondo me nell'ambito dello spogliatoio può dire quello che vuole. Io non mi sembra di aver detto delle cose gravi, ho detto semplicemente che non si poteva perdere contro una squadra di produzione cercando di elevare l'attenzione della squadra. Se poi un giocatore nel momento in cui perde contro una squadra di produzione ha l'abilità o l'aspetto mentale di registrare per tutto, io penso che non può fare il calciatore un essere umano del genere. Io mi auguro che non sia un calciatore, dovesse essere un calciatore penso che la sua avventura ad Arezzo sia terminata stasera.